buongiorno ragazzi siamo al novantesimo minuto di volperento liverpool avevo registrato un'altra clip ma era troppo troppo perché tanto ci saranno molto minuti di recupero perché sta uscendo rui patriffio per rudy sia infortunato e spirito santo forse non esiste più e spirito santo ma e spirito saprano tutti cosa buffon spirito di buffon allora io ne approfitto ragazzi per parlare la battita nel frattempo che entra il portiere allora vi dirò da liverpool ne aspettavo molto di più però non ha giocato manco una cagata ci sono stati i minuti in cui non gli facciamo poco vedere a palla ci sono stati i minuti in cui erano relativamente in crisi ci sono stati i minuti in non giocavamo benissimo ma anche una cagata sta uscendo lui patriffio ormai siamo al novantunesimo non ho capito bene perché stia uscendo l'ho capito assolutamente sette minuti di recupero ci gusteremo circa 23 minuti perché sette minuti su un po troppi in ogni caso grande partita del del volperento che ha saputo difendersi ha saputo ripartire in contropiere però al liverpool si sente molto la mancanza dei due centrali di difesa ovvero virgil van di giago e anche il matip ma anche giuro metti cioè oggi ha giocato con philips come difensore centrale che vi dirò che essere onesti non ho mai saputo chi fosse molto bene adama tra ore che non ha per niente giocato male anzi sarà così e così è stato ad un lato un gol per un fuorigioco molto evidente e non lo praticamente visto in tutta la partita è andato un po' a culo è il gol che ha fatto di ogota io voglio ta non so come cazzo si pronunci perché l'ha presa lui patrissio però non è riuscito a deviarla il tanto per per metterla fuori si attende ancora probabilmente saranno sette minuti o anche otto siamo ormai al novantaduesimo io direi che ragazzi dopo un attimo la rec rega siamo al novantaquattresimo ma è la scena più bella della mia vita il preparatore dei portieri allenava il potere il portiere che deve subentrare hanno messo un'altra parla in campo e si stavano facendo i passaggi it's incredible applausi per lui patrissio siamo ormai al cento al centesimo minuto arriva finalmente dopo ben dieci e passa minuti il cambio di lui patrissio ormai non ho capito cosa sicuramente è svenuto il portiere di casa se lo portano via con la barella spero non troppo serio il problema scusate il gioco di parole visto che non è portato con l'ambulanzina adesso raga solo agli highlights attacca liverpool fuori di poco il tiro di mohamed sala veramente di poco siamo ormai al centotresimo probabilmente si andrà avanti fino al centosettesimo barra centottesimo vista la ripresa ormai più di un tempo supplementare più infinita di juve porto ultimo minuto di gioco probabilmente attacca il volperentone il cross in mezzo la lontana via la difesa lo commentiamo tutti insieme qua che non vediamo l'ora che finisca con questa partita perché io io ovviamente mi sto fucilando e quattro minuti adesso attacca però il liverpool attenzione sala mo sala mohamed e no no sadio mane sadio main mane mane potrebbe allargare mane mane fa tutto da solo mane 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 fallo non è reputato fallo da parte dell'arbitro si continua adesso c'è adama traurè con la sua velocità adama traurè avadama traurè traurè il cross in mezzo è orrendo però è un traversone che va alla fine a buon fine scusate il gioco di parole alison parata era più un cross raso terra vediamo si fischia l'arbitro alla fine cioè ragazzi io sono un quarto d'ora aspettando la fine di questa partita e mamma mia che che partita strana da ma traurè attacca traurè traurè il cross in mezzo vediamo di chi è la palla se corne no ha superato la linea di fondo ci ha provato un giocatore del volperenton col brivido però è fuori vediamo se fischia la fine e invece si finisce qua vediamo qua beh per favore fate finire sta partita non mi sono rotto finisce qua ciao ciao sono morto